un altro anno sta volgendo al termine e come di consueto qui ad arte esplorando è tempo di auguri di buone feste anche il 2022 è passato in fretta tra progetti lavori e anche qualche vacanza per fortuna desidero farvi i miei auguri con una cartolina speciale l'opera vigilia di natale di carlton alfred smith carlton alfred smith è un artista britannico vissuto tra 800 e 900 che dipinse principalmente scene di genere ad acquerelli molti dei suoi dipinti sono rappresentazioni della vita domestica nei cottage inglesi verso la fine del diciannovesimo secolo ha studiato in francia e alla slade school di londra e ha esposto alla royal academy e al royal institute of painters in water colors in questo dipinto vediamo una scena ambientata alla vigilia di natale in un interno modesto che potrebbe essere una casa di contadini di fine ottocento si concentrano una serie di personaggi vicino all'ampio camino acceso vediamo un uomo anziano e un bambino appoggiati a un tavolo apparecchiato un cagnetto è al fianco di una giovane ragazza che apre la porta di casa tenendosi il grembiule a terra un mucchietto di agrifoglio pianta associata al natale e all'inverno molto decorativa per via delle sue bacche rosse ma tutta la nostra attenzione corre attraverso il dipinto seguendo gli sguardi dei personaggi e terminando sulla figura di donna che è sulla soglia di casa con un grande mazzo di agrifoglio in un braccio e un cesto di arance nell'altro l'arancia è entrata a far parte della tradizione natalizia nel diciannovesimo secolo dove era diffusa l'usanza di appendere vicino al fuoco le calze di natale questa tradizione viene fatta risalire al 1823 al racconto di natale dal titolo the night before christmas ma chi è questa figura attorniata dall'alone di luce che entra da un esterno innevato fa parte della famiglia oppure è la personificazione dello spirito natalizio a voi e l'interpretazione che più preferite se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando di arte esplorando